Ascoltare buona musica, l'espressione si usa alla leggera, in realtà la musica è tutta cattiva, essa blocca il rigurgito che abbiamo per l'esistenza e se la fa con ciò che si potrebbe chiamare la malvagità in sé. Ho sempre utilizzato, secondo me, in un modo scorretto la musica rispetto alle mie intenzioni e ai miei desideri, però fa parte del gioco degli uomini, cioè quello di costringere la musica a occuparsi di temi sociali, perché la musica per sua natura è metafisica e se ne dovrebbe infischiare dei problemi, delle angosce degli uomini, ma come dicevo prima, siamo uomini non caporali e quindi ci occupiamo anche di proprio pochissimo di politica o di protesta sociale o di problemi proprio umani. Capitani coraggiosi furbi contrabandieri macedoni Gesuiti e Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. La musica sprigiona suoni dai suoi stessi fans, dalle loro orecchie spalancate suonano i e quella musica che essi vogliono ascoltare. Per le strade di Pechino erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Cosa pensi che il pubblico abbia capito veramente di te e cosa non ha capito? Beh, da un po' di tempo a questa parte dico che è l'autore stesso a non capire quello che fa, quindi capirai. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, che non mi faccia mai, non mi faccia mai! Mi ha portato a fare dei bilanci, detesto aver fatto qualcosa e guardarlo con un minimo di soddisfazione e per me esiste il presente perché tutto quello che fai effettivamente è la tua base. La stagione dell'amore viene e va all'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Pochissime canzoni d'amore nella mia vita perché per me è un argomento molto serio quindi non mi posso mettere a dire lei mi ha lasciato se non è vero. A meno che puoi anche fingere e scrivere una bella canzone, però non è il mio caso. Però quando le scrivi... È perché sono motivato. Sei forsemente motivato. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me. Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Con l'età ho imparato, ed è grande per me questa conquista, è stata grande, che sapere non dire quello che pensi e sapere fare quello che non ti piace è molto più importante che fare quello che ti scappa. E' un sentimento nuovo che mi tiene alta da vita La passione nella colla, l'eros che si fa parola Le tue strane indizioni che scatenano il piacere Lo scivaismo tantrico, distide di odisiaco La lotta pornografica dei greci e dei latini La perdono come un'oasine, il deserto ancora mi cattura Ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo E' bellissimo perdersi in questo incantesimo Mister tamburino, non ho voglia di scherzare Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestra il denaro Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare Quei programmi temenziali con tribune elettorali Avete voglia di mettervi profumi e deodoranti Siete come sabbie mobili tirate giù C'è chi si mette degli occhiali da sole Per avere più carisma e sintomatico mistero Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano Quante squallide figure che attraversano il paese Come misera la vita negli abusi di potere Minima immoralia Gli effetti sonori esasperati rivelano il nucleo di verità della musica odierna, farsi sentire costi quel che costi, adoperare anche il silenzio pur disposto. Ma è sempre un regno animale, chi ama gli animali e chi li segue sa che possono essere imprevedibili, non hanno la ragione che controlla, sono istintivi per così dire, devono stare a delle regole imposte a loro e alle quali non si possono sottrarre, mentre l'uomo sì, l'uomo ha la fortuna del libero arbitrio, ecco perché dico vedere un uomo come un animale, cioè perde questo senso di controllo di sé e va come nel gioco dell'oca. Torniamo in dieci, come perdiamo da piccoli a ruba bandiere. Esattamente. Di ciò che accade intorno a te, di quali media ti nutri? Questo è interessante, ma mi cogli un po' di sorpresa, sono per tre quarti della giornata assolutamente immune, poi arriva il crollo la sera perché dopo una giornata di lavoro ho bisogno... Fammi sapere che è successo, dicono a Roma. Quindi la cosa più banale è quella che faccio, quindi sedermi sul divano, accendere la televisione, girare tutti i canali, sconfortarmi ogni sera di non trovare una trasmissione adatta al mio modo, a come vedo io il mondo e poi optare sempre, quasi sempre, per un film anche di azione truculento americano perché in qualche modo mi fa passare quelle due ore serale prima di riandare a letto e mettermi a leggere. . Poi, le giorni e il giorno che noi stiamo lavorando, stiamo facendo un'impecante, non è star la opinione, non è la possibilità di far Christianity, non è un'impecante, non eccetera, non è un'impecante. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Come mai la Sicilia è terra di geni, cioè persone magiche? Non credo che esistano delle terre dove ci siano solo delinquenti e solo persone eccezionali Il mondo è una tavolozza di colori, se ti interessa il grigio lo trovi verso le zone del nord, se ti interessa l'azzurro chiara lo trovi verso il sud Grazie a tutti 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 Mentre Grazie a tutti E perché Grazie a tutti 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 E questo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Franco Betti Grazie a tutti 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 studenti Grazie a tutti 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 E Grazie a tutti 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 Grazie a tutti